Valorizzare il territorio e proposte che tengono conto del patrimonio culturale. Purtroppo negli ultimi anni si sta evolvendo ed ampliando sempre di più il fenomeno della desertificazione dei centri storici, causato soprattutto dall'attuale crisi economica. Passaggiando nei centri, città, si può notare che molti bar, ristoranti e servizi pubblici sono costretti a tirare i battenti. Continuando di questo passo, i bellissimi centri storici delle città italiane sembreranno delle città fantasma. Questo fenomeno è determinato anche dall'indifferenza dei giovani d'oggi, i quali preferiscono passare le loro giornate nei centri commerciali, invece di visitare palazzi, musei, giardini o semplicemente passeggiare per le vie del centro ed ammirare le magnifiche opere architettoniche che tutti noi possediamo. Per valorizzare il centro storico ed evitare la fuga dei centri commerciali, la nostra classe è pensata di portare un contributo con l'organizzazione di una mostra di autori friulani nelle vetrine di una via del centro storico. Per valorizzare l'ambiente e le cortune portadine friulane. Con il museo diffuso si cerca di ampliare gli spazi museali. Facendo questo, i turisti non sono tenuti a chiudersi attorno a quattro mura, ma fanno parte di un reale museo diffuso. Con la valorizzazione di questi luoghi si riporta in un uso le vecchie opere di artigianato e le vecchie tradizioni friulane nell'ambito lavorativo e festivo. Questo percorso è essenziale sia per le vecchie generazioni e sia per quelle nuove. Ho scelto la loggia del Lionello, sede del comune, perché passeggiando per il centro di Udien è sempre piacevole osservare. Ha uno stile gotico veneziano e una forma elegante. Venne costruita dal 1448 al 1456 su disegno di Niccolò Lionello. Ho realizzato un portafoto che rappresenta la loggia del Lionello, tra le colonne della quale sarà possibile, per esempio, inserire le foto ricordi di una coppia che ha pensato di celebrare il proprio matrimonio in questo storico palazzo. Altri potenziali clienti saranno turisti e visitatori. Il Friuli è una regione completa. Abbiamo montagne, pianure e mare. Le Alpi lasciano sempre un loro ricordo con gli splendidi paesaggi e il loro buonissimo profumo. Quindi ho pensato di creare un cubo in legno che contenga l'essenza di un albero fiulano, realizzato in collaborazione con Lorenzo Dante Ferro, maestro profumiere fiulano, in modo da ricordare i parchi del Friuli attraverso la forma e legno all'essenza di un albero monumentale di un parco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.